29 29 Al ristorante 1 Al ristorante 1 È libero questo tavolo? È libero questo tavolo? Vorrei il menù, per favore. Vorrei il menù, per favore. Che cosa mi può raccomandare? Che cosa mi può raccomandare? Vorrei una birra. Vorrei una birra. Vorrei una minerale. Vorrei un'aranciata. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè macchiato. Con lo zucchero, per favore. Vorrei un tè. Vorrei un tè. Vorrei un tè al limone. Vorrei un tè al limone. Vorrei un tè con latte. Vorrei un tè con latte. Ha delle sigarette? Ha delle sigarette? Ha un portacenere? Ha un portacenere? Ha da accendere? Ha da accendere? Mi manca una forchetta. Mi manca un coltello. Mi manca un coltello. Mi manca un cucchiaio. Mi manca un cucchiaio.